e per la figa più ragazzi siete incontenibili? adesso riposatevi un attimo ragazzi tenete un po' di fiato andiamo in mezzo al pubblico vediamo se c'è qualcuno che vuole visitare chi è che vuole visitare qui in mezzo ragazzi? c'è qualcuno? vieni qui davanti forza fammi sentire allora ragazzi un attimo abbiamo un candidato per il prossimo anno vediamo abbiamo per tutti quelli che riceveranno l'applauso del pubblico un biglietto omaggio per le gare di motocross del 28 giugno a Carpi costa 20 euro questo biglietto per cui vediamo se te lo vuoi prendere mentre parco di